E giallo a Palazzo San Francesco il codice per pagare la Tares, l'ex Tarsu, tassa sui servizi di raccolta dei rifiuti, è sbagliato. Ma di chi è la colpa? Lo abbiamo chiesto al sindaco Brasiello. Allora è accaduto questo, in realtà questi F24 vengono generati da un software in automatico. Una volta generati gli F24, espediti direttamente a posto italiane, che è il gestore che pensa di imbustare poi gli F24 e mandarli ai cittadini, ci si è accorti che il codice per pagare il tributo era errato. In realtà il personale del comune non se ne sarebbe potuto accorgere perché il codice stesso viene generato da un programma a lei che non consente ai dipendenti comunali di vedere a video l'F24, per cui non sono stati in grado di leggere il codice. Un codice meccanografico che viene generato dal programma a lei viene trasferito direttamente a poste italiane. Questo è stato il motivo del codice errato. Ovviamente io colgo l'occasione anche per dire questo, che in realtà non ci sono stati pagamenti che poi devono essere rimborsati perché essendo il codice sbagliato l'ufficio esattore non poteva prendere il pagamento. Per cui mi scuso con i cittadini di questo disguito, abbiamo ovviamente già provveduto ad informare le banche poste italiane dell'errato codice e loro in automatico adesso l'hanno cambiato, per cui è tornato tutto normale. Qui si tratta della prima rata con la scadenza il 31 agosto, ma è stata inviata già ai cittadini? No, si tratta di due rata. Si tratta della scadenza del 30 di agosto e del 30 di ottobre. Sono state entrambe inviate ai cittadini. Adesso però ci sarà la terza rata che invieremo tra qualche giorno, che scadrà il 31 dicembre e che sarà la famosa rata a conguaglio, perché lì ancora non siamo in grado di sapere qual è il conguaglio per ogni cittadino, in quanto i dati provenienti dal governo ancora non arrivano, perché questa è una tassa, questo lo voglio spiegare, che va a sostituire la Tarsu. D'ora in poi non esisterà più la Tarsu, esiste la Tares, che ha meccanismi diversi che non siamo ancora in grado di mettere insieme. Ecco il motivo per il quale ci siamo riservati di mandare successivamente l'ultima rata, che sarà la famosa rata a conguaglio. Un aumento del 30%, giusto? L'aumento ci sarà, necessariamente ci sarà, perché i criteri con i quali è stata individuata questa nuova tassa sono diversi dalla Tarsu e quindi ci sarà sicuramente un aumento. Certamente qui a Isernia credo che l'aumento sarà molto, molto, come dire, blando, anche perché Isernia è una delle città in Italia dove queste tasse sono molto, molto basse.